Buongiorno ragazzi, buongiorno e bentornati in questo nuovo video! Oggi facciamo un video un po' speciale perché voglio farvi una prima parte di quella che è stata una grandissima richiesta da parte vostra cioè come organizzo la mia settimana tra spesa, meal prep, preparazione appunto dei pasti, conservazione dei pasti appunto organizzazione generale di quella che è la mia alimentazione, la mia dieta sostenibile e flessibile Allora partiamo subito con questo primo video e voglio farvi vedere quella che è la mia spesa la mia spesa di base perché ovviamente lo sappiamo, gli imprevisti ci possono sempre essere gli acquisti dell'ultimo momento per voglie o necessità ci sono sempre però è bene avere una base su cui appunto partire ogni giorno senza fare la spesa ogni volta che si mette i piedi fuori di casa Partiremo e andremo a scompatti, quindi qui abbiamo lo scomparto dei carboidrati qui abbiamo le proteine, manca ancora qualcosina che è in congelatore qui abbiamo una piccola parte delle verdure e poi i grassi Ovviamente la spesa credo sia una delle cose più soggettive e personalizzabili che ci sia La mia spesa non sarà la vostra spesa però può darvi un'idea, una base per avere sempre nella dispensa o nel frigorifero dei prodotti facili, veloci da cucinare e soprattutto buoni perché è quello che vogliamo Allora partiamo subito con i carboidrati Partendo dai carboidrati qui abbiamo una serie di fonti che adesso vi spiegherò e vi dirò perché appunto le ho inserite in questo scomparto della nostra spesa Allora innanzitutto per la colazione ma anche per gli spuntini e perché no per delle preparazioni salate una delle fonti che preferisco in assoluto di carboidrati sono i fiocchi di avena Io prendo questi di MyProtein, sono 100% fiocchi di avena gluten free quindi sono ottimi Come vedete li prendo in grande quantità perché li consumo tantissimo che sia nella preparazione dei pancake, che sia nella preparazione dei porridge o come panatura per il pollo, per il pesce quando voglia di una ricetta un po' più sfiziosa Si conservano benissimo e quindi li uso molto molto spesso Come fonte di carboidrati che possiamo preparare in anticipo abbiamo ovviamente la pasta integrale il riso basmati o riso integrale qui abbiamo il couscous, una fonte di carboidrati che mi piace tantissimo perché può essere preparata sia in anticipo che sul momento avendo bisogno soltanto di 5 minuti di preparazione Ho le classiche amatissime gallette, a me piacciono tantissimo queste di grano saraceno di Bio Conad ma le trovate ovviamente anche di altre marche e poi come fonte alternativa di carboidrati ho anche i fusilli 100% farina di ceci questi mi piacciono particolarmente, li ho ancora chiusi ma ho l'altro pacco di lenticchie che mi piace tanto perché oltre ad essere un'ottima fonte di carboidrati è anche una buona fonte di proteine lo uso spesso come piatto unico abbinato ad una salsa quindi fatta con verdure e poi mi piace un sacco aggiungerci un po' di parmigiano in modo da completare anche il quadro ammino acidico questa pasta ve la consiglio, provatela se non l'avete mai provata perché è davvero davvero ottima come fonte di carboidrati come non nominare la nostra cara patata che poi non è una patata ma una radice tuberosa è la patata dolce, la patata americana questa è a pasta arancione e mi piace particolarmente perché a differenza delle patate gialle classiche non mi gonfia la pancia proprio perché non essendo un tubero ma una radice tuberosa non mi crea appunto quel fastidioso gonfiore che invece la patata bianca classica mi crea come altre fonti di carboidrati invece ho deciso di farvi vedere questo farro al vapore che mia mamma usa tantissimo perché lei dovendo mangiare in fabbrica al lavoro, a pranzo spesso quando non ha tempo di cucinare sgocciola una confezione di farro, aggiunge delle verdure, una fonte proteica e se lo porta al lavoro quindi è davvero utile da avere in dispensa per emergenza ovviamente se il farro lo potete fare partendo dal chicco intero, crudo di farro ancora meglio però per averlo sempre in dispensa secondo me non è una cattiva idea come ulteriore fonte di carboidrati ho deciso di inserirvi anche come i fusilli con la farina di ceci anche i ceci in scatola perché lo metto nelle fonti di carboidrati e non in quelle proteiche? semplicemente perché andando a leggere i valori nutrizionali se io vedo che la quantità di carboidrati supera quella di proteine in un alimento io lo considero per in questo caso carboidrato con una quantità importante di proteine ma per come la vedo io, io lo utilizzo come carboidrato a basso indice glicemico con appunto una quantità di carboidrati nettamente inferiore rispetto al couscous, al riso o alla pasta però comunque sempre un carboidrato questo è utilissimo da avere sempre in dispensa perché appunto lo sgocciolate all'ultimo momento lo fate tostare leggermente in padella e i ceci sono davvero davvero ottimi l'ultima prima che mi dimentico ovviamente il nostro amato pane io uso questo, il pane di segale, posso prendere questo del Conal posso prendere quello della San Carlo, quello senza lievito, quello fresco dal panettiere insomma i pani sono più o meno tutti uguali però lo uso tantissimo la sera, magari tostato in padella per accompagnare delle uova, una frettata o anche il mio semplice petto di pollo è una fonte glucidica molto comoda da avere che si può anche congelare come vedete è tagliata già a fette e quindi voi potete anche decidere di congelarla e scongiorarla magari al momento mettendola direttamente nel tostapane o nel forno vi ho presentato queste fonti di carboidrati ma ce ne saranno anche tantissime altre queste sono quelle a lunga conservazione che io consiglio di avere sempre nella dispensa appunto per sia prepararle al momento che come nel caso del riso, come nel caso della pasta o del couscous si possono preparare in anticipo in grandi quantità e poi mettere in frigo ma questo lo vediamo nel prossimo video dedicato al meal prep adesso passiamo invece alla fonte di proteine una delle fonti più importanti per chi pratica attività fisica è spesso una delle fonti più sottovalutate nell'alimentazione in generale allora, come è fonte proteica da tenere sempre in dispensa? secondo me abbiamo ovviamente il nostro caro tonno in scatola al naturale, all'olio, quello fate voi ho trovato in supermercato anche questo filetto di orata che non dovrebbe essere male i valori nutrizionali sono ottimi se riesco ve li faccio vedere eccoli qui i valori nutrizionali è un filetto di orata al naturale completamente senza rischi e senza pelle che dovrò assaggiare ve lo farò sapere come fonte proteica da tenere sempre nella dispensa inoltre ho voluto mettervi anche questi fagioli di soia che a differenza dei legumi che vi ho proposto in precedenza hanno 11 grammi di proteine su 100 a discapito invece dei carboidrati che sono 3 grammi su 100 quindi io lo considero come fonte proteica e non fonte di carboidrati invece come ho fatto prima con i legumi altre fonti proteiche da avere sempre nel frigo ovviamente le uova io le compro di solito il sabato quando faccio la spesa e mi durano poi tutta la settimana ovviamente il nostro caro amico albume anche questo può essere utilizzato in tantissime preparazioni dolci, salate, fit pizza, quello che volete si mantiene in frigo 2-3 giorni anche di più volendo una volta aperto e io lo utilizzo tantissimo è davvero una fonte proteica che si presta a tantissime preparazioni per quanto riguarda invece le fonti principali come carne e pesce io di solito uso comprare una grande quantità di carne o di pesce in un'unica giornata e poi come vedete qui porzionare in questo caso il pollo in vari piccoli sacchetti che poi vado a mettere nel freezer questo mi permette di avere sempre del pollo a disposizione del pollo ma può essere anche per esempio del salmone può essere del tonno può essere un altro tipo di pesce del tacchino, della carne rossa, della carne magra quindi davvero qualsiasi tipo di fonte proteica animale, carne e pesce può essere surgelata e io vi consiglio di farlo uno perché si risparmia a comprare in grande quantità e due perché in questo modo la sera prima o la mattina avete a disposizione la vostra porzione appunto di pollo, di pesce eccetera per il vostro pranzo o la vostra cena un'altra fonte proteica molto importante è il formaggio io ne ho sempre un po' in freezer di solito compro un triangolo di parmigiano che mi dura comunque tutta la settimana anche di più anche questo per esempio lo posso prendere già grattugiato e metterlo in congelatore è davvero un'ottima soluzione per tenerlo più a lungo e poi ovviamente anche lo yogurt lo yogurt che può essere yogurt magro yogurt greco yogurt di soia comunque se ne fate abitualmente uso io vi consiglio di prenderlo di scorta magari guardate la data di scadenza prendetelo con un po' di giorni in più come scadenza ed è fatto ultima fonte proteica da avere sempre secondo me in dispensa o comunque nel proprio borsone della palestra sono le barrette proteiche scegliete la barretta proteica che più fa per voi a livello nutrizionale esistono tantissime barrette proteiche con più o meno carboidrati più o meno grassi più o meno proteine esistono quelle vegane esistono quelle senza lattosio esistono quelle raw esistono quelle normali davvero ce ne sono tantissime a me piace tanto questa qui di My Protein ve la faccio vedere è il pasto sostitutivo diciamo anche se io lo utilizzo come spuntino ed è ottima perché ha come valori nutrizionali ha 220 calorie per barretta ed è una barretta comunque di 65 grammi quindi che sazia 6 grammi di grassi 26 grammi di carboidrati di cui 7 di zuccheri 2 grammi di fibre quindi ragazzi non è imbottita di fibre 20 grammi di proteine quindi non è neanche esageratissima è un'ottima fonte proteica è un ottimo sostituto più che altro per lo spuntino ecco perché per il pranzo me ne dovrei mangiare 8 di queste passiamo ai grassi ok passiamo alla fonte di grassi anche qui c'è tanta varietà io non ho tutto adesso sotto mano perché appunto vi ho fatto vedere proprio quello che ho in dispensa non ho comprato nulla per il video ma vi faccio vedere quelle che sono le mie fonti di grassi preferite in assoluto allora che non può mai mancare in un mio piatto è sicuramente l'olio l'olio d'oliva oppure mi piace tanto anche l'olio di semi di canapa che ha un gusto particolare vi invito a provarlo se non l'avete mai provato lo trovate da natura sì o comunque nei prodotti specializzati prodotti biologici lo dovete tenere in frigo mi raccomando e secondo me fare un misto tra olio di oliva e olio di canapa è ottimo perché vi permette di completare il quadro appunto degli acidi grassi ottimi sia nell'uno che nell'altro come fonte di grassi in assoluto mia preferita del cuore burri di frutta secca qui ho il burro di anacardi aromatizzato alla vaniglia di my protein che è no si vede che mi piace ciao qui si fanno i danni quindi ottima fonte di grassi io lo utilizzo sia nelle mie preparazioni dolci ma anche sulla patata dolce questo ci sta troppo bene un'ottima fonte anche di proteine pochissimi carboidrati insomma quasi zero e io ve lo consiglio ve lo consiglio consiglio quello di arachidi se potete farvelo in casa tanto vale farvelo in casa basta davvero pochissimo ve l'ho fatto vedere ve lo rifaccio vedere il cioccolato il cioccolato fondente questo nello specifico è un 70% un gusto davvero particolare questo cioccolato di modica mi è stato inviato appunto dalla ditta Chomod ed è un cioccolato fatto a mano a modica davvero buonissimo ingredienti a massa di cacao zucchero di canna e basta però ho avuto modo anche di assaggiare quello al timo selvatico quello all'olio d'oliva quello ai semi di sesamo davvero davvero buonissimo quindi grazie Chomod per avermi inviato questa buonissima fonte di grassi e niente però le fonti di grassi sono tantissime avete l'avocado avete il tuorlo d'uovo che comunque è anche una fonte di grassi oltre che una fonte di proteine e come ingrediente misto tra proteine e grassi c'è anche il salmone che ha una buona quantità di grassi ma è comunque un'ottima fonte proteica anche il tofu per esempio non ve ne ho parlato tra le proteine che non ce l'ho adesso ma anche il tofu è un'ottima fonte di proteine ma anche di grassi quindi fate attenzione anche ai prodotti combinati perché molti alimenti sono presenti in quantità comunque importanti anche due macronutrienti insieme per quanto riguarda invece la verdura e la frutta qui dovete andare di stagione io per esempio adesso in casa ho il finocchio la lattuga o vabbè i pomodorini anche se non sono di stagione le banane che mi piacciono tantissimo in questo periodo in cui comunque i carboidrati abbastanza alti le arance mandarini anche qui le pere insomma come frutta e verdura avete davvero tantissima tantissima scelta si conserva abbastanza bene in frigorifero di questa stagione anche fuori dal frigo non ci dovrebbero essere problemi però anche questa non vi consiglio di prepararla in anticipo perché annerisce però la frutta e la verdura è sempre qualcosa che io preparerei sul momento a meno che non scegliete qualcosa che è in congelatore per esempio io in congelatore in questo momento ho il minestrone ho i pisellini findus i pisellini primavera una serie insomma di cose che posso tenere appunto in congelatore pronto sempre all'uso quella che vi ho presentato è quindi la mia spesa la mia spesa di base che faccio almeno una volta a settimana e che mi permette di avere sempre qualcosa pronto all'uso da preparare all'ultimo momento in 5 minuti in 10 minuti da preparare da portarmi via non ci vuole davvero tantissimo impegno per poter creare una dispensa e un frigorifero adatto appunto ad uno stile di vita sano diciamo ad uno stile di vita che mira verso la flessibilità che mira verso la sostenibilità e davvero non ci vuole tantissimo io condivido questa spesa con mia mamma e devo dire che anche lei si adatta tranquillamente al pensiero che ho dell'alimentazione sana ovviamente ci sono sempre gli imprevisti le cene fuori le voglie dell'ultimo momento passo dal supermercato per comprare il pane e me ne torno con 300.000 cose questa è una cosa che accomuna un po' tutti diciamo però quello che penso sia importante è appunto avere una base fissa su cui puoi andare a lavorare ogni giorno per creare dei piatti sani, gustosi fantasiosi e soprattutto che ci permettono di stare bene di allenarci e di fare tutto quello che dobbiamo fare durante la giornata questa appunto è la prima parte del video su come organizzare la propria settimana abbiamo parlato di spesa nel prossimo video parleremo di organizzazione dei pasti meal prep e conservazione adesso vado a mettere il salmone in congelatore altrimenti mi toccherà mangiarlo e ci vediamo per il prossimo video vi mando un grosso bacio ciao 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 Grazie.